Un posto al sole, anticipazioni al 26 aprile, Mariella prova a corteggiare Alberto. La crisi sentimentale tra Mariella e Guido andrà sempre peggio secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 aprile, la vigilessa deciderà di ascoltare un consiglio piuttosto originale di Bice. A quanto pare Mariella proverà a fare ingelosire Guido con l'avvocato Alberto Paiadini, per riconquistare il marito. Mariella vuole fare ingelosire Guido nelle prossime puntate di Un posto al sole, Mariella, Antonella Aprisco, scoprirà che Silvia, Luisa Amatucci, ha tradito Giancarlo, Alessandro Todisco, con Michele, Alberto Rossi. Nonostante le liti con Guido, Germano Bellavia, siano causate proprio dalla sua eccessiva propensione al chiacchiericcio. La vigilessa non ce la farà a tenere il segreto e lo confiderà a qualcuno, la cui identità non viene svelata. La sensazione è che possa trattarsi di Bice o Salvatore, in ogni caso, il desiderio di Spettegolare creerà nuovi attriti tra lei e Guido. Del bue si mostrerà sempre freddo e distaccato nei confronti della moglie e, così, Mariella per salvare il suo matrimonio deciderà di seguire alla lettera un consiglio piuttosto bizzarro di Bice, Lara Sansone. La vigilessa così deciderà di fare ingelosire il marito con Alberto Palladini, Maurizio Aiello. Il punto sulla crisi fra Guido e Mariella questa vicenda sembra essere raccontata all'interno di un contesto di sollievo comico. È difficile davvero anche solo ipotizzare che possa accadere qualcosa tra Mariella e Alberto. Se i presupposti risultano leggeri, non è detto però che lo sia anche l'epilogo. In queste puntate, Guido si è mostrato sempre più insofferente verso il comportamento della moglie. Gli atteggiamenti della donna, che prima venivano analizzati in chiave comica, ora sembrano essere digeriti sempre più a fatica da del bue. Se quest'ultimo dovesse scoprire il piano della moglie, potrebbe non apprezzare la sceneggiata e reagire piuttosto male. Difficile ma non impossibile che il piano di Mariella riesca o, se non altro, che l'uomo ne apprezzi lo sforzo decidendo di far pace con la moglie. Damiano indaga su Flavio. Silvia accetta la proposta di matrimonio di Giancarlo Damiano, Luigi Miele, grazie alla caparbietà di Nunzio, Vladimir Randazzo. Scoprirà il legame tra Flavio Bianchi, Leonardo Santini, e il boss Angelo Torrente, Loris De Luna. Nel frattempo Clara, in Mapirone, renderà felicissimo Edoardo, Fiorenzo Madonna, proponendogli di sposarlo. Sabbiese però sarà all'oscuro di essere finito nel mirino della Camorra, a causa del suo nuovo ruolo di collaboratore di giustizia. Silvia, Luisa Amatucci, accetterà di sposare Giancarlo, mandando in crisi Michele, al Alberto Rossi. Nel frattempo Manuela, Gina Amarante, osserverà con profonda delusione l'affinità crescente tra Nico, Luca Turco, e Valeria, Benedetta Valanzano. Infine Ferri, Riccardo Polizzi Carbonelli, Marina, Nina Soldano, Alice, Fabiola Balestriere, e il piccolo Tommy si prepareranno a partire per la Corea del Sud, tuttavia Ida, Marta Anna Borucinska, non sembrerà entusiasta di questa novità.